Green Pass per l'assessore alla sanità Giuliano Barigazzi è opportuno adottare il modello francese, piano urbanistico generale rimandato a mercoledì. L'appennino tosco emiliano sarà protagonista dell'estate italiana. Resistenza franca, la certosa omaggia franca rame. Bologna calcio barro positivo al covid. Buongiorno e benvenuti a una nuova edizione del GR di Incronaca, in studio Leonardo Petrini. Apriamo con i vaccini. Per l'assessore alla sanità l'estensione del Green Pass potrebbe evitare nuovi lockdown e convincere i più scettici a vaccinarsi. Lo ha sentito per noi Marco Sant'Angelo. Il Green Pass, il lascia passare contro il covid, potrebbe diventare obbligatorio per ristoranti e mezzi di trasporto. L'Italia sta valutando il modello francese assieme alla proroga dello stato di emergenza di almeno due mesi, ma i fronti si spaccano non appena l'ipotesi passa al vaglio e mentre il PD è orientato ad aderire al modello Macron, il centrodestra insorge e paventa il rischio di ritrovarsi in una società orwelliana anticostituzionale in cui verrebbe meno la sacra e inviolabile libertà individuale. Non è dello stesso palere nel momento in cui la discussione viene calata nello sfondo locale. L'assessore comunale alla sanità di Bologna, Giuliano Barigazzi, sarebbe più opportuno a riprendere il modello francese, visto il rischio di una probabile risalita dei contagi a causa della variante Delta, sottolinea l'assessore. In sintesi, Barigazzi evidenzia la duplice funzione che il Green Pass modificato avrebbe. Evitare nuove chiusure e un lockdown da un lato, spingere a vaccinarsi chi ha ancora dei dubbi dall'altro. Se si ritiene che questo strumento sia utile per ritornare alla normalità e impedire nuovi lockdown, non credo che sia prematuro. Ha aggiunto in conclusione Barigazzi. Ci vorrà ancora tempo per l'approvazione del piano urbanistico generale. Pesano le critiche dell'opposizione, critiche soprattutto rispetto alle clausole per accedere al super bonus del 110%. I dettagli con Simone Viani. La maggioranza, con in testa la vice sindaca Valentina Orioli, avrebbe voluto approvare il piano urbanistico generale subito per andare al voto già lunedì. Ma il concitato confronto di Iria Palazzo d'Accursio si è concluso rimandando la discussione a mercoledì prossimo. Troppe le variabili da considerare, prima fra tutte le clausole del super bonus del 110% che rendono l'iter travagliato per gli edifici storici. Al fiere della protesta è stato Francesco Sassone, capogruppo di Fratelli d'Italia, che ha detto «Molti cittadini non riusciranno ad usufruire dello sgravio per le restrizioni imposte dal comune». Le critiche sono arrivate anche da Stefano Pantaleoni, vicepresidente dell'Ordine degli Architetti, e da Alberto Zanni, presidente di Confabitare. Secca la replica di Orioli sul punto. Non si può avvantaggiare lo sviluppo sulla proposta storica e artistica di un centro storico come Bologna. Servirà trovare una mediazione. Passiamo ora al turismo. Stefano Lorenzi di Appennino Slow ha parlato della vacanza in montagna come di un'occasione per conoscere ambiente, cultura e eccellenze agroalimentari del territorio. I dettagli nel servizio di Beatrice Maroni. L'estate 2021 è per l'Appennino una grande occasione per valorizzare il proprio territorio. Strutture come Appennino Slow, che offrono viaggi e esperienze autentiche, hanno grandi aspettative per la stagione da poco iniziata. Il responsabile Stefano Lorenzi ha raccontato in cronaca le prospettive attese per l'estate 2021, affermando che le prenotazioni sono già molto numerose e le strutture sono pronte ad accogliere turisti italiani e non solo. Grazie alla recente entrata in vigore del Green Pass, infatti, stanno arrivando anche turisti europei dall'Austria, dall'Olanda, dalla Germania. Il turismo nazionale invece è di prossimità dall'Emilia Romagna, Toscana, Marche, Veneto e Lombardia. A detta di Lorenzi è cambiata anche la tipologia delle persone. Si è tornati ad avere tante famiglie che riconoscono la comodità di avere strutture in prossimità. Le case in affitto sono esaurite in pochissimo tempo, così come le prenotazioni per cammini e trekking. La vacanza in montagna è un conubio tra scoperta, conoscenza, esperienza e attività per tutte le età. L'elemento di maggiore attrazione è principalmente l'ambiente, ma anche le esperienze outdoor, come bici e trekking, e la ricchezza enogastronomica del territorio. Nonostante le strutture vacanziere della Riviera quest'anno sono più organizzate rispetto all'anno scorso, l'Appennino tosco-emiliano è pronto per una stagione che farà registrare grandi numeri. Resistenza Franca è uno spettacolo teatrale in omaggio alla scrittura di Resistenza al Femminile di Franca Rame e andrà in scena il 16 luglio al Parco Monumentale della Certosa. Ascoltiamo di più con Chiara Caravelli. Sarà il cimitero monumentale della Certosa a fare da sfonda Resistenza Franca. Lo spettacolo teatrale in scena venerdì 16 luglio dalle 20 alle 21 e 30. Un omaggio alla grande attrice Franca Rame e alla sua scrittura di Resistenza al Femminile. I tre monologhi scelti, Michele Lullanzone, Nadea Pasini e Una Madre, mettono al centro il tema della morte e della maternità insieme al desiderio di ribellione ai potenti e di riscatto sociale. Lo spettacolo, realizzato grazie alla collaborazione tra Associazione Culturale Yucaia APS, Fondazione For Rame e Associazione Feminista Folli in Bucca APS, fa parte del calendario di Bologna Estate 2021. L'associazione Iucali, spiega l'attrice protagonista Simona Sagone, con questa produzione vuole proseguire nel suo obiettivo di promozione della drammaturgia al femminile e della storia delle donne. Lo spettacolo vuole, attraverso il teatro, attivare nuove forme di resistenza civile e riflessioni su temi sociali, in particolare sui valori della resistenza al nazifascismo e alle mafie. Michele Lullanzone è la storia di un sindacalista ucciso dalla mafia perché cercava di portare l'acqua ai contadini. A seguire, la storia di Nadia Pasini, partigiana della settima brigata GAP di Bologna, coinvolta nella cura dei feriti reduci dalla battaglia di Portalame del 7 novembre 1944. La donna venne torturata dai nazifascisti per indurla a fare i nomi dei medici dell'infermeria della brigata. Infine, il monologo Una madre, racconto che si basa sulla presa di coscienza della donna di avere un figlio terrorista e la penosa visita al ragazzo rinchiuso in carcere. Il costo del biglietto è di 12 euro, di cui due verranno devoluti ai lavori di restauro della Certosa. E concludiamo con lo sport. Musabarro, attaccante gambiano del Bologna, è positivo al Covid. Non è partito dunque per il ritiro di Pinzolo, dove Mijailovic spera di essere raggiunto a ore da Marco Arnautovic. Intanto sarà la Salernitana l'avversaria dei Rosso-Blu all'esordio in Serie A. Ce ne parla Michele Mastandrea. Non inizia certo nel migliore dei modi la stagione di Musabarro. L'attaccante gambiano del Bologna, positivo al Covid e in isolamento domiciliare, non è partito con la squadra per il ritiro Trentino di Pinzolo, dove i 30 Rosso-Blu convocati da Mijailovic, tra cui i nuovi arrivi Bonifazi e Vanoidonk, si alleneranno fino al prossimo 24 luglio. È una nuova partenza in salita per un ritiro della squadra di Mijailovic, per fortuna non paragonabile come gravità a quella del 2019. In quell'occasione, a non partire, fu proprio il tecnico serbo a causa della leucemia. Oggi a turbare Sinisa sono soprattutto questioni di mercato. C'è ottimismo per l'arrivo di Marco Arnautovic, possibile che nelle prossime ore si giunga la firma. Alternativa per il reparto avanzato potrebbe essere Pinamonti, che l'Inter considera cedibile. In uscita c'è sempre Tomiyasu, con il Tottenham molto determinato a far sbarcare a Londra il giapponese. L'offerta di 18 milioni di euro più bonus dovrebbe bastare a convincere Sabatini. Con l'uscita del centrale ci saranno i fondi per acquistare il difensore richiesto da Mijailovic. I nomi in ballo sono sempre Lianco, Rugani e Benatia. L'arrivo di uno di questi tre dovrebbe completare la rosa per la Serie A 2021-2022. L'esordio del Bologna sarà il 22 agosto, quando al Dallara arriverà la neopromossa salernitana. Per questa edizione è tutto. Un saluto dalla redazione di Incronaca. Grazie.